Musica Crisi Hydrochem, occupazione simbolica della superstrada questa mattina. Lavoratori promettono nuove iniziative. Due canne ad air e un elicottero a lavoro sulle alture del Cusio per domare l'incendio all'Alpe Camosino. Ora si contano i danni. A Santa Maria i carabinieri hanno scoperto una piantagione di marijuana. La serra era allestita in cantina, arrestato 38enne. Taglio del nastro sabato pomeriggio per l'Emporio dei Legami. Nasce sotto legida del comune di Verbagna con il supporto del volontariato cittadino. Omenia si prepara a festeggiare l'anno rodariano. A cento anni dalla nascita dello scrittore Cusiano, tanto gli eventi in programma. Si correrà settimana prossima sulle nevi del Devero la traccia bianca. Ad oggi più di 500 gli iscritti all'evento. Ben trovati dalla redazione di Vicio Notizie. In apertura di giornale dunque l'occupazione. Perché oggi i lavoratori Hydrochem hanno manifestato per le vie di Pieve Vergonte sino ad arrivare ad occupare simbolicamente la statale del Sempione. Avevano promesso azioni eclatanti e così è stato. I lavoratori di Hydrochem questa mattina al termine di un'assemblea hanno occupato simbolicamente la superstrada dell'Ossola. L'azione è durata pochi minuti sotto l'occhio vigile di polizia e carabinieri. I lavoratori, una cinquantina, hanno stazionato lungo la corsia sud della statale del Sempione a Pieve Vergonte. È una delle azioni che abbiamo messo in campo per far capire all'azienda che comunque noi non ci fermiamo. Andiamo avanti per la nostra strada finché non ci verranno date le risposte che aspettiamo. In questo momento ci stanno prendendo tutti in giro. Tutti in giro. Sia noi lavoratori ma anche chi ci sta sostenendo. Che cosa vi aspettate ora dopo questa manifestazione? Ma ci aspettiamo un po' più di visibilità, cosa che stiamo facendo in tutti i modi per averne. Delle risposte sicuramente perché comunque c'è ancora molto silenzio. I lavoratori si sono dati appuntamento davanti all'ingresso della fabbrica e poi hanno proseguito sino al statale. Che toni sono stati quelli usati nell'assemblea oggi? Abbastanza concitati perché la situazione è grave, non vediamo via di sbocco, non abbiamo risposte, nonostante un anno erotti di cassa integrazione, chi ha zero ore e quindi adesso basta. In testa al corteo il gonfalone di Pieve Vergonte, il sindaco Maria Grazia Medali con la fascia tricolore accanto al lavoro dei sindacati. Infatti anche le istituzioni stanno lavorando per cercare di scongiurare la chiusura della fabbrica ossolana. Questa azienda è nel territorio ed è una delle fonti di sostentamento maggiore per il territorio. Quindi per noi è fondamentale star vicino ai dipendenti, star vicino anche a tutto l'indotto che purtroppo sarà penalizzato da un'eventuale negativa risoluzione di questa problematica. Quindi dobbiamo essere tutti uniti, la comunità deve sempre stringersi a fianco dei lavoratori e quello che stiamo facendo e stiamo cercando di essere utili nel modo migliore, cercando di trovare ogni tipo di soluzione. Abbiamo anche noi trattative in corso proprio per cercare di far sì che ci sia una risposta dalla Germania. La manifestazione odierna potrebbe non essere l'ultima. Lavoratori e organizzazioni sindacali si ritroveranno in assemblea la prossima settimana. Allo studio nuove iniziative, non si esclude una trasferta all'estero. Il sindacato è pronto, supportato dai lavoratori, ad arrivare anche nella sede legale del gruppo tedesco che è proprietaria di Heidrochem. Sì, la sede legale è in Lussemburgo come molte purtroppo di queste finanziarie. Stiamo valutando se andare in Germania o in Lussemburgo. Noi abbiamo bisogno dell'investimento delle celle a membrana e lo vorremmo portare a casa a tutti i costi. Andremo avanti con le nostre iniziative. I lavoratori sono esasperati a questo punto, chiedono qualche certezza per il loro futuro. A fine dicembre scade la cassa integrazione e la realizzazione dell'impianto a tempi lunghi. Sì, i lavoratori sono esasperati. Come si vede stanno mettendo in atto tutte le manifestazioni, gli impegni mediatici possibili perché vogliono arrivare all'incontro di inizio marzo con delle risposte. I tempi sono strettissimi, come il 31 dicembre 2019 scade la cassa integrazione e sappiamo che comunque qualora dovesse iniziare l'iniziazione dell'impianto la problematica è che i tempi di realizzazione sono lunghi e quindi dobbiamo valutare anche come proseguire con la questione. Un'azienda che rischia la chiusura eppure ci sarebbe anche chi è interessato all'acquisto di questo stabilimento. In questo caso addirittura eravamo arrivati quasi alla conclusione dell'operazione. ci ritroviamo con un nulla di fatto senza avere ben chiara neanche la motivazione. L'unica cosa chiara che abbiamo è che il socio che sarebbe dovuto entrare non è lui che si è defilato o perlomeno non sono state rispettate determinate condizioni che avrebbero garantito l'ingresso di questo nuovo socio e conseguentemente anche l'avvio di questo nuovo impianto. Le rappresentanze sindacali unitarie di Alessi hanno inviato ai colleghi di Hydrochem un messaggio di solidarietà e vicinanza analogo a presa di posizione arrivata anche dalla FIOM CGL VCO Novara. Marco Cristina in un comunicato dice siamo molto attenti e vicini alla nostra vertenza il nostro territorio non sarebbe in grado di sopportare un'ulteriore moragia occupazionale di così ampia dimensione. Il fuoco ha divorato una buona porzione di bosco del Cusio le fiamme hanno divorato molta vegetazione l'incendio divampato nel pomeriggio di ieri è stato domato nella giornata di oggi sul fatto indagano i carabinieri di Omenia. Sono state finalmente domate le fiamme a cavallo tra i comuni di Pella e Cesara l'incendio le cui cause dovranno essere valutate nelle prossime ore dal comando dei carabinieri di Omenia è divampato intorno alle 16 di ieri giovedì dopo circa un'ora sono iniziate le operazioni per arrestare l'incendio che sono stati interrotte col sopraggiungere della notte dalle prime ore di questa mattina si è ripartiti con l'intervento dell'elicottero dell'Eliossola al quale si sono aggiunti un paio di canader e i mezzi dei vigili del fuoco di Borgo Manero il lavoro congiunto ha permesso di spegnere le fiamme nemmeno l'avaria di uno dei due canader impegnati ha ostacolato la macchina organizzativa visto che prontamente è stato sostituito da un secondo elicottero planato sui cieli del Cusio l'incendio all'ambito la frazione di Egro di Cesara e quella di San Giulio di Pella senza coinvolgere alcuna abitazione la zona più interessata è stata quella del Monte Camosino dalle cui alture si giunge al Lago d'Orta archiviata l'emergenza ora si pensa a calcolare i danni e ad individuare la causa scatenante l'incendio ha lasciato il carcere si trova ai domiciliari il 25enne di Nonio Omar Piccoli accusato di omicidio preterintenzionale nei confronti del pensionato Marino Gallarotti il Gipe Elena Ceriotti ha accolto la richiesta del suo legale Gabriele Pipicelli Piccoli non era infatti stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia quando nei suoi confronti era stata formulata la nuova accusa conseguente la morte del 76enne avvenuto al 28 settembre a Novara in ospedale il giovane lo aveva colpito lo scorso maggio davanti al circolo di Nonio l'uomo si era intromesso in difesa della ex fidanzata con la quale Piccoli stava litigando violentemente vanno nell'abitazione per un controllo e scoprono una piantagione di marijuana è successo ai carabinieri di Santa Maria Maggiore c'erano più di 80 piante di marijuana nella cantina del 36enne di Santa Maria Maggiore RF arrestato dai carabinieri della locale stazione a insospettire militari era stato il continuo via vai intorno al suo appartamento i carabinieri hanno così intensificato i controlli il 36enne è poi uscito con la sua auto ignorando i sigilli dal momento che era stata sottoposta fermo e guidando nonostante gli fosse stata ritirata la patente ha fatto un giro ed è andato a trovare alcuni amici un'iniziativa che è stata notata dai carabinieri che si sono subito messi all'opera per verificare il rispetto dei divieti imposti rientrato a casa è stato raggiunto e fermato per i controlli di rito ed ha subito assunto un comportamento irrequieto visto il crescente nervosismo dimostrato durante il controllo i carabinieri hanno esteso la perquisizione alla residenza in casa del 36enne ben nascosta nella cantina era stata realizzata una serra dove crescevano 84 piante e c'erano 200 semi di canapa indiana c'erano anche diversi grammi di marijuana oltre a materiale per l'esticazione e il confezionamento immediatamente arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre le piante e il materiale sono stati sottoposti a sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria sarà inaugurato domani pomeriggio alle 15.30 il market sociale Emporio dei Legami un luogo in cui le persone che vivono un periodo di difficoltà possono trovare un sostegno per gli aiuti alimentari l'Emporio si trova in via Roma 15 ad Intra ed è aperto lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30 martedì e venerdì dalle 9.30 alle 12 l'Emporio dei Legami un progetto di lunga gestazione penso proprio che il lungo impegnativo lavoro svolto dia una particolare soddisfazione ora che si approda al risultato è stato un lavoro partito cinque anni fa pian piano è andato avanti con grande soddisfazione con grande impegno di tutti devo dire che nessuno si è risparmiato abbiamo lavorato tanto anche nelle difficoltà perché comunque mettersi di buona lena per un impegno simile non è stato facile soprattutto per i tanti volontari però siamo addirittura ad arrivo quindi il Comune ha fatto la sua parte e siamo molto contenti di questo l'Emporio sarà in via Roma 15 come sapete già l'ex sede del circolo socialista il Comune di Vervania ha impiegato circa 140.000 euro per la ristrutturazione è venuto davvero un posto accogliente un posto che saprà fare la differenza un aspetto indubbiamente significativo e importante è il grosso lavoro di rete il vasto coinvolgimento che si è realizzato attorno a questo progetto Sì, allora come assessore io devo dire di aver creduto fortemente non solo per l'Emporio ma per tutto il lavoro che tutti i soci che lavorano nel sociale sanno fare quindi questo legame di valore esprime molto bene questo progetto Verbagna come ho avuto modo di dire altre volte è una città che ha tanti volontari ha tanta voglia di dare e quando ci si riesce a mettere insieme a mettere in rete diventa un successo alla fine Un altro aspetto del lavoro svolto è indubbiamente il fatto di incanalare le persone che usufruiranno di questo nuovo servizio verso questa nuova modalità anche di distribuzione Sì, i bisogni sono tanti per cui non credo che ci siano grosse difficoltà anzi credo che proprio per lo spazio come si presenta lo spazio sia anche più facile avvicinare anche persone che tutto sommato forse non hanno troppa facilità da rivolgersi alle Caritas ad esempio è uno spazio neutro gestito sempre dalle associazioni ma neutro da questo punto di vista La politica verbanese in piena campagna elettorale si scontra sui lavori in corso alla stazione ferroviaria È scontro sulla stazione di Fondotocce tra l'amministrazione comunale e Forza Italia Tutto è nato da un comunicato nel quale il coordinatore verbanese azzurro Massimo Manzini parla di pendolari lasciati sotto la pioggia Ci risulta che da molti mesi la copertura di quella che sarà la pensilina del binario 3 è giaccia abbandonata nel cantiere del movicentro scrive Manzini Ne consegue che le persone che attendono i treni in direzione di Milano debbano farlo su una banchina scoperta senza alcuna protezione in caso di pioggia per ripararsi dalla quale si è costretta ad attendere il treno dentro il sottopasso Eppure l'interaiatura della pensilina è già stata montata Per quale motivo non si procede al suo completamento? Prosegue il comunicato Basterebbero poche ore di lavoro ma misteriosamente nessuno lo fa Di certo il comune di Verbagna che sotto l'attuale amministrazione si è preso il ruolo di coordinatore dell'opera non se ne cura Intanto la deputata capogruppo di Forza Italia Mirella Cristina ha deciso di scrivere a rete ferroviaria italiana Il cantiere del movicentro spiega Cristina ha causato oltre all'abbattimento della sala d'attesa del binario 3 anche un certo restringimento della banchina col risultato che specie nell'ora di punta vi sono decine di persone ammassate Ciò costituisce una situazione di potenziale pericolo quando vi sono treni come i merci e gli Eurocity Il passaggio viene a velocità sostenuta a poche decine di centimetri dalla gente in attesa nonostante esista il binario 2 che non viene più utilizzato ho quindi chiesto al RFI di ripristinare il binario 2 per creare maggiore sicurezza risponde in una nota l'amministrazione comunale è con grande piacere che apprendiamo come il coordinamento cittadino di Forza Italia si sia accorto che sono ripresi i lavori alla stazione si è vero l'amministrazione guidata da Silvia Marchionini si è fatta carico del lavoro di ammodernamento della stazione lasciata negli anni precedenti all'incuria al degrado lavori che l'amministrazione di centrodestra di Zacchera di cui Forza Italia non ha né fatto né nemmeno pensato di fare e conclude ci vorrà ancora tempo ci saranno inevitabili disagi ma questa amministrazione ha lavorato duramente e ottenuto il risultato di rilanciare e ammodernare questa struttura solo Forza Italia non se ne accorta inviando invece un comunicato stampa inutilmente critico che la dice lunga sulle polemiche sterili di questa e altre forze politiche Il leghista Gusmeroli è fra i promotori dello scudo antiaccertamento a cui si lavora in Parlamento di cosa si tratta ce lo spiega il deputato aronese al microfono di Franco Filippetto è una proposta dove sostanzialmente sul reddito che si dichiara in più nel 2020 rispetto al 2019 si paga solo il 15% questo dovrebbe permettere di far emergere il sommerso che è enorme in Italia e spingere anche la crescita perché a quel punto uno è spinto a produrre di più anche a guadagnare di più perché non viene completamente tassato anzi solo il 15% senza contributi senza addizionali senza IRAP senza niente è una proposta della Lega sostenuta dal Vice Ministro Garavaglia dal Sottosegretario Bitonci quindi probabilmente entrerà nei pacchetti che si faranno per il 2020 per ridurre la tassazione perché l'unico modo per recuperare dall'evasione è sostanzialmente abbassare le tasse questo sconto però è solo sulla parte eccedente non sul complesso sulla parte eccedente la proposta è per tre anni in modo da arrivare poi dopo i tre anni alla flat tax per tutti per dipendenti pensionati imprese tutti perché la logica è se tutti paghiamo meno cresciamo emerge sommerso e non c'è bisogno di fare controlli lo Stato quanto ricava? lo Stato ricava tutta l'imposta che si paga sull'eccedenza quindi non perde euro sull'attuale ma guadagna tutto il sommerso che attualmente è enorme si parla di 200 miliardi di euro che se riusciamo a far emergere effettivamente il bilancio dello Stato può fare investimenti può far crescita può fare lavoro occupazione Omenia si appresta a varare un ricco calendario di eventi per festeggiare i cento anni della nascita di Rodari Manca un anno ma ve ne voglio dire che non è mai troppo presto per prepararsi ad un grande evento come l'anno rodariano che sarà il 2020 un evento che il Parco della Fantasia intitolato a Geni Rodari si appresta a vivere in che modo? Il Parco della Fantasia sta lavorando con la città per celebrarlo nel migliore dei modi parte da adesso la rincorsa verso il 2020 ci sono già degli avvenimenti che coinvolgono l'intera nazione con dei corsi di formazione che coinvolgono le scuole di tutta Italia le case editrici di tutta Italia ma anche degli eventi condivisi con dei partner internazionali Tra l'altro a questo grande evento al 2020 è anche legato la proposta di partecipazione intanto al bando emblematico con la fondazione Calipro che punta su due cose importanti che saranno la nascita del Museo Rodari vedremo dove poi e poi anche tutte le altre attività che vi sono collegate compreso non ultimo il turismo legato sempre al nome di Gianni Rodari che sarà un turismo scolastico e un turismo familiare a proposito di turismo scolastico voi quanti ragazzi e quante scolaresche ospitate ogni anno proprio qui nel nome di Gianni Rodari ma allora ne ospitiamo diverse migliaia solo per le scuole sono circa 15.000 poi in realtà negli ultimi anni si è ingrandito molto perché ci abbiamo lavorato parecchio si è ingrandita molto la parte di turismo legato alle famiglie che è molto bello e molto interessante per il territorio perché chiaramente vengono soggiornano mangiano prendono il gelato prendono il battello arricchendo un po' quello che è il territorio locale e su quello vogliamo proprio puntare sempre di più attualmente abbiamo circa 2.000 persone di turismo familiare che vengono abbiamo già quadruplicato quelle del 2017 nel 2019 vorremmo fare altrettanto fino ad arrivare al 2020 veramente a consacrare questa tradizione cioè portare a Umenia sempre più famiglie a vedere i luoghi delle storie e della biografia di Gianni Rodari di antisemitismo e dei pericoli che ancora oggi si corrono letti con gli occhi di chi è scampato all'ecidio di Meina di questo si parla questa settimana il sasso nello stagno Auschwitz non mi avrai la trasmissione in onda come sempre il venerdì alle 21 è riproposta il sabato alle 17 e domenica alle 14 la puntata di questa settimana del sasso nello stagno prende spunto da un libro intitolato Auschwitz non mi avrà edito da Edizioni San Paolo che racconta la storia di una famiglia di ebrei italiani in fuga dalla persecuzione nazifascista una storia che interseca anche il nostro territorio il lago maggiore Baveno Meina e una storia che è anche una storia d'amore molto intrigante che inizia addirittura in Libia però ecco poi arriva ad un momento drammatico quello in cui questa famiglia di ebrei deve fuggire dallo sterminio prima dalla rappresaglia e quindi deve sfuggire dal rischio di finire nei campi di concentramento e ci riuscirà diciamo fuggendo in Svizzera a raccontarci questa storia e anche a parlarci un po' dell'attualità di questo tema che rimane sempre vivo e quindi il pericolo dell'antisemitismo sono i nostri ospiti Guido Hassan che è un autorevole membro della comunità ebraica di Milano ed è il protagonista insieme alla sua famiglia di questo libro e Giuseppe Altamore un giornalista che è già stato qualche anno fa ospite del Sassano allo Stagno parlandoci di acque minerali allora era uno dei libri che aveva pubblicato Giuseppe Altamore che ha raccolto questa storia e questa testimonianza trasformandola in un libro che è testimonianza di storia ma anche testimonianza di vita di sentimenti angoscia paura speranza di questa famiglia di ebrei quindi l'appuntamento è al Sassano nello Stagno questa settimana con questo libro Auschwitz non vi avrà e con i suoi protagonisti e siamo allo sport in apertura agli sport invernali Alessia Crippa e Argento la giovane atleta dello Sciclub Valle Antigorio ha ottenuto il secondo posto ai campionati italiani assoluti di skeleton disputati in Austria sulla pista di Igor Il titolo è andato a Valentina Margaglio delle fiamme azzurre che l'ha preceduta di un secondo netto per la Crippa la conferma della sua grande crescita che la pongono al top a livello italiano Ed ora invece parliamo della traccia bianca la gara in programma è il 24 febbraio sulle nevi del Devero sono 550 gli iscritti ad oggi c'è ancora tempo per iscriversi quest'anno per la prima volta la manifestazione è promossa dalla SDLTB il CAI ha ceduto alla nuova associazione l'organizzazione dell'evento Si è messa in moto già da tempo la macchina organizzativa della traccia bianca 2019 tante novità ma soprattutto grande risposte da parte di chi verrà perché ad oggi le iscrizioni sono già superiori a quota 500 insomma potete essere soddisfatti Sì siamo soddisfatti e speriamo che nonostante questo cambiamento ci sia comunque la risposta di pubblico degli altri degli altri anni e che il nostro impegno comunque è quello di mantenere le caratteristiche della manifestazione intatte come quelle che aveva ideato il CAI Pallanz cioè deve essere una festa deve essere una manifestazione per tutti sia per chi vuole correre che per chi vuole divertirsi e insomma deve essere soprattutto una festa della montagna e capire che la montagna va rispettata e ci si può divertire tutti insieme Con le iscrizioni online possono essere fatte fino al 21 di febbraio poi ci si può iscrivere tranquillamente il giorno della gara Sì le iscrizioni online sono aperte fino al giorno 21 21 di febbraio dopodiché ci si può iscrivere anche il giorno della gara con un leggero sovrapezzo che la quota passa da 12 euro a 15 Tanto entusiasmo da parte vostra che avete raccolto il testimone come dicevi giustamente prima da CAI Pallanza per mantenere viva una delle manifestazioni più belle dell'inverno sportivo Sì diciamo che hai detto giusto l'entusiasmo perché diciamo che il CAI Pallanza dopo 13 anni di duro lavoro tra cui sottoscritto aveva bisogno di nuovi entusiasmi e si è pensato di formare questa nuova associazione sportiva coinvolgendo anche persone enti associazioni che non fossero legate strettamente al CAI l'appuntamento per il 24 l'appuntamento per il 24 Ed ora le bocce la raffa finiti i campionati le gare continuano Nel pomeriggio di sabato scorso il team di Al Possaccio di categoria vice campione d'Italia per il 2018 ha abbandonato l'avventura del campionato di promozione 2019 dopo la sconfitta in casa 3 a 5 di 7 giorni prima di cui diamo alcuni riflessi filmati il team verbanese ha lasciato ogni speranza in terra lombarda ancora sconfitto dalla bocciofila Marino dilentate sul Seveso niente da fare per Capitan Chiappella e compagni che hanno avuto problemi specie interna c'è ancora speranza di passare il secondo turno invece per il team di Possaccio categoria B che nella gara d'andata del secondo turno ha pareggiato a Mantova contro la bocciofila Gonzaga per 4 a 4 le vittorie nei vari set sono state di Francesco Raimondi in un set dell'individuale di Mario Boscardin e di Silvio Tassera bravissimi in entrambi i set di coppia e ancora di Francesco Raimondi e Carlo Callegari in un altro set di coppia il ritorno decisivo domenica 17 febbraio alle ore 14 a Possaccio chi vince vola in Sardegna per il terzo turno domenica 10 febbraio al bocciodromo di Trobaso dove ogni mercoledì pomeriggio a sede per il Verbano la scuola bocce del comitato si è tenuto il trofeo di carnevale 2019 con una gara a baraonda per dare moda a tutti i ragazzini di partecipare buon successo intanto della scuola bocce all'ampi di Crusinallo ben 21 bambini su 26 erano in campo ad allenarsi pochi giorni dopo a proposito di giovani domenica l'altra Roberto Mazzolini della bocciofila Possaccio si è classificato secondo nella categoria under 18 al trofeo Bauman della bocciofila canonichiese continuano le gare provinciali al trofeo Italo Sacco vincono i soliti Pierlauro Angelini e Massimo Callegari davanti alla coppia della Ternatese Zonca Stefanizzi Persi Belzer Sacco della Baragese Quarti Macchie Rotondi della Fratelli d'Italia invece Max Schiappella e Roberto Turuani del Possaccio si sono fermati in una bella gara alla Lilla di Legnano grossa ma del tutto meritata sorpresa al trofeo in memoria di Arido Poli a Crusinallo dove fa sua la gara il duo vertese Sardo Alberganti Piero Balzani battuti in finale 12 a 6 Pierlauro Angelini e Massimo Callegari reduci da ben 6 vittorie stagionali terza la coppia di casa dell'Ampi Giovanni Visini e Pinuccio la Morte quarti Amedeo Borgotti e Paolo Fanizzi della bocciofila Sussellese sorpresa ma non troppo anche nella finale del 9 febbraio alla Baraggia vince la coppia della Vigevanese composta da Fulvio Piano ed Enrico Rossi che nell'ultima sfida mette sotto il quotato duo della Fratelli d'Italia Fabio D'Altoè e Massimo Daga alle piazze d'onore Sergio Romuzzi e Walter Fantoli della bocciofila Gattugno e padre e figlia Massimo e Natalia Combi sempre della Fratelli d'Italia Siamo in chiusura a tuttonotizia.info per gli aggiornamenti grazie per averci seguito arrivederci alle prossime edizioni